Il digitale, un fattore abilitante per soddisfare il cliente. E allora io chiamo gli speaker protagonisti qui sul palco, ovvero Alfredo Lori, Project Manager Servizi Insurance Cheope Risk Management. E poi ancora Paolo Mecciani, Founder Bime Consulting. Roberto Anesin, Direttore Intermediari e Business Assicurativo Digitale Arag Italia. E infine Andrea Cortese, Marketing and Customer Experience Director di Berlon Italy. Benvenuti, buongiorno, sedetevi pure. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Bene, allora ripartiamo appunto dal digitale, un fattore abilitante per soddisfare il cliente. Lo abbiamo un po' annunciato durante l'apertura dei lavori di questa mattinata che il digitale sarebbe stato un po' il fil rouge di tutte le nostre tavole rotonde, degli interventi. È inevitabile parlarne, soprattutto in funzione poi anche di quella che sarà un'ulteriore svolta determinata dall'intelligenza artificiale. E allora, la prima domanda che rivolgo è un po' uguale per tutti i nostri speaker, cioè ecco come state affrontando da punti di vista diversi, da realtà diverse, questo passaggio cruciale della digitalizzazione. Io farei iniziare al dottor Lori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Piacere Alfredo Lori di Cheope. Cheope è un'azienda che dall'88 si impegna a fornire servizi che aiutano i propri clienti, principalmente imprese, a prendere delle decisioni informate e consapevoli di quelli che sono i rischi e le opportunità connesse al rapporto con altre controparti, siano persone fisiche o imprese. Il rapporto con la tecnologia inizia in sostanza negli anni 90, quando le camere di commercio iniziano a digitalizzare i database che contengono tutte le informazioni sulle imprese del territorio nazionale, su imprese e su persone fisiche. Pertanto oggi il nostro impegno è di proporre dei servizi fondati sull'analisi molto attenta di database complessi contenenti informazioni di diversa tipologia, sia qualitative che quantitative, ma in parallelo a questo, quindi in parallelo a una gestione digitale delle informazioni poi inserite nei processi dei nostri clienti. Continuiamo a mantenere e ad implementare quella che definiamo a tutti gli effetti una human intelligence, un po' contrapposta a quella che oggi è una terminologia molto attuale relativa all'intelligenza artificiale, quindi l'intelligenza delle macchine. Ecco, con i nostri operatori, sui quali costantemente andiamo a investire per la loro formazione, siamo in grado anche di intervenire e di risolvere tutte quelle situazioni che rappresentano un disallineamento della base dati digitalizzata rispetto a quella che è poi la realtà. Per cui in sostanza cerchiamo di integrare il più efficacemente possibile quella che è la tecnologia a quella che è anche l'intelligenza e le capacità umane. Ecco, questo è un po' il nostro punto di vista e prospettiva sulla tematica. Ecco, visto che Dottor Lori lei ha citato una parola chiave, l'abbiamo sentita anche nel discorso introduttivo di Filippo Maria Renga, cioè l'intelligenza artificiale, ormai è diventato un argomento all'ordine del giorno, lo è diventato soprattutto nell'ultimo anno, cioè da quando ChatGPT soprattutto ha fatto irruzione nelle nostre vite, anche con tutta l'evoluzione del caso legato poi anche alla privacy e di privacy e di dati, poi ne parleremo all'interno di questa mattinata. Ecco, l'intelligenza artificiale sta sconvolgendo un po' tutti i settori, compreso il settore assicurativo, compreso il settore bancario e quindi attraverso varie declinazioni. E proprio qui io introduco nella discussione anche il Dottor Meciani e il Dottor Cortese, abbiamo detto ambiti differenti nel senso digital health e automotive, settori diversi ma comunque un impatto che si fa sentire, quello dell'intelligenza artificiale. Io parlerei proprio del settore sanitario, come il digitale e in particolar modo l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando questo ambito. Prego Dottor Meciani. Grazie, intanto riempio la parte vuota del bicchiere dell'ingegner Renga. Il fatto che abbiamo investito anni fa vuol dire che adesso, dopo alcuni anni, queste start-up scale up e unicorni hanno sul mercato soluzioni pronte, hanno preso soldi e con questi adesso sono mobili a livello internazionale e si sono acquisite, quindi abbiamo dei player che fanno non solo un piccolo servizio ma hanno un'offerta più ampia. Per cui a livello industriale adesso è un momento meraviglioso per usare queste tecnologie. A livello intelligenza artificiale c'è da moltissimi anni in ambito salute, le ultime opportunità legate a LGBT e altre piattaforme sembrano essere legate, intanto sulla carta potrebbe essere applicata veramente un po' ovunque nella catena del valore e vanno poi verificate effettivamente sia a livello diciamo normativo che hanno varie limitazioni, bias possibili, problemi di proprietà intellettuale che non viene garantita, quindi ci sono ancora delle lacune, ma sulla carta sembra una innovazione intanto pronta in tempi molto rapidi, perché è già fatta praticamente, c'è una start-up con poche persone che ha delle soluzioni usando questi grandi motori. E poi permette dei modelli che ad oggi non c'erano, cioè permette non solo di avere dei servizi nuovi, ma fare in modo ad esempio che il cittadino abbia accesso a delle informazioni o possa fare un qualcosa che prima era solo appannaggio della classe medica. Ecco, quindi sì, insomma, si amplia il portafoglio delle possibilità, non solo un potenziamento che consente l'intelligenza artificiale proprio dei medici e del lavoro dei medici, ma anche ad esempio la possibilità di autodiagnosi, di monitorare costantemente lo stato di salute ecco, delle persone. Quindi insomma un impatto veramente significativo nel mondo della digital health che raggiunge e sta raggiungendo delle cifre importanti e le vedremo dopo continuando il discorso. Dottor Cortese, arrivo da lei per chiederle invece quale rapporto c'è tra appunto l'intelligenza artificiale, questo sviluppo della digitalizzazione e il settore invece dell'automotive. Ci spiega ecco, proprio praticamente, quali sono i risvolti? Certo, buongiorno a tutti e grazie anche per l'invito di oggi. Mi permetto di svelare un arcano perché prima mi avete presentato come Berron, che è la realtà dove effettivamente lavoro. Berron è una realtà che con questo nome magari è poco conosciuta. Uno dei nostri brand in Italia, il principale e più importante è Carglass, per cui sicuramente con questo nome è più facile identificare che comparto e che contesto dell'automotive lavoriamo. Noi siamo una rete retail, abbiamo con il marchio Carglass più di 250 centri sul territorio, principalmente nel nord e nel centro Italia e fondamentalmente ripariamo i vetri delle auto che si sono rotti fondamentalmente. In realtà che è il leader a livello mondiale, leader a livello anche italiano e per tanto tempo fondamentalmente votata al face to face, al drive in, si rompe l'auto, si rompe il cristallo dell'auto, vado in filiale fondamentalmente per chiedere un preventivo piuttosto che per farmi sostituire il cristallo. Il digitale per noi è stato un fondamentale partner per quanto riguarda l'incremento della efficienza e della soddisfazione sia dei clienti automobilisti sia dei nostri partner assicurativi. L'80% del nostro fatturato lo facciamo tramite i clienti che hanno fondamentalmente una polizza cristalli, quindi un'assicurazione sui cristalli auto. E sempre di più il cliente che cerca semplicità, cerca rapidità e cerca fondamentalmente un'opportunità di prendere uno slot in agenda e di non perdere fondamentalmente del tempo, sta rivolgendosi in primis al canale digitale come canale abilitante per prendere appunto un appuntamento nei centri. E lo stiamo vedendo perché è una crescita che devo dire negli ultimi due anni è passata dall'8 al 30% di quota di canale fondamentalmente per noi per cui è decisamente esploso. Forse complice della pandemia e sicuramente investimenti in semplificazione. Uno dei problemi, e qui entro nel tema dell'utilizzazione artificiale, che effettivamente abbiamo. Da un lato citavo la semplicità e la rapidità con la quale i clienti prendono niente appuntamento, ma dall'altro è anche il rapporto con le compagnie assicurative. Ovviamente l'Italia è un paese che si contraddistingue soprattutto in ambito assicurativo per una problematica importante delle frodi e nell'ambito della carrozzeria piuttosto che del vetro dell'auto spesso questo va in una direzione di preoccupazione per le compagnie assicurative. L'intelligenza artificiale in questo caso ci aiuta a certificare fondamentalmente quello che noi facciamo come lavoro. Le due attività principali sono la sostituzione o la riparazione del parabrezza. La riparazione del parabrezza è molto più veloce, è molto più conveniente per le compagnie assicurative ed è molto più sostenibile. Il fatto di avere uno strumento di intelligenza artificiale che certifichi fondamentalmente il fatto che il vetro si può riparare invece che sostituire di fatto da un lato velocizza i nostri processi, dall'altro garantisce effettivamente che si faccia il meglio fondamentalmente sulla vettura da un punto di vista di sostenibilità ambientale e anche di costo perché ovviamente riparare costa molto meno che sostituire. Quindi l'intelligenza artificiale estremamente praticamente parlando è un abilitante per gestire una migliore efficienza. Quindi di fatto diventa realmente un supporto al miglioramento. Certo, ecco, appunto l'abbiamo detto, un fattore per abilitare proprio e soddisfare le esigenze dei clienti. Anche qui io mi rifaccio a una frase che lei ha pronunciato, cioè noi eravamo un mondo abituato al face to face. Diciamo che questa frase può essere applicata appunto al settore assicurativo to cure. Però è un mondo, insomma, sempre che è stato ed è giusto utilizzare il tempo passato, un po' ingessato, un po' sempre uguale a se stesso che invece, proprio a causa della rivoluzione digitale, ha dovuto adattarsi, evolversi. E quindi io qui chiamo in causa il dottor Anesin per comprendere bene, ecco, come questa evoluzione ha influito poi sul lavoro anche quotidiano degli intermediari e soprattutto, ecco, se la tecnologia può essere considerata un elemento di completamento del lavoro degli intermediari o se si rischia una sostituzione. Buongiorno a tutti, grazie Valentina per la domanda. Io vi porto un punto di vista da un osservatorio particolare ma anche privilegiato. Arag è una compagnia leader nel mercato della tutela legale sia a livello mondiale che sul mercato italiano. Il canale di vendita principale è quello degli intermediari intermediari tradizionali, quindi agenti plurimandatari e broker e quello che noi osserviamo è che mentre il cliente è molto pronto, le reti tradizionali lo sono un pochettino meno. E quindi noi crediamo molto nelle reti tradizionali, nel ruolo del consulente assicurativo in senso lato e vediamo la tecnologia come un fattore abilitante al servizio della distribuzione, non certo sostitutivo, soprattutto per quanto riguarda i rami danni e quelli a maggior componente specialistica, consulenziale come può essere la tutela legale. Vi porto un paio di esempi perché mi piace essere molto concreto. Noi cerchiamo di utilizzare la tecnologia e di metterla a disposizione delle nostre reti. Due esempi su tutti, la robotica, RPA, noi usiamo strumenti, software di robotica per aiutare i nostri intermediari a fare business, per semplificare i loro processi e quindi creiamo campagne per la vendita, per il cross-selling, per le riforme di portafoglio, con strumenti nostri che noi mettiamo a disposizione delle reti. non è semplice perché ci sono comunque delle resistenze da questo punto di vista, però pensiamo sia un ruolo determinante quello delle compagnie anche da un punto di vista del change management delle reti e quindi sia fondamentale fornire strumenti, continuare a educare le nostre reti a utilizzarle perché è vero che in alcuni ambiti, come abbiamo visto dalla ricerca iniziale del dottor Renga, i clienti sono pronti e acquistano self-service in altri settori, in realtà come lo è la tutela legale bisogna assolutamente spingere l'offerta perché nessun cliente viene a chiedere un apporto di tutela legale a un assicuratore. Il secondo esempio che faccio è quello del digital marketing, noi forniamo alle nostre reti un servizio di marketing digitale chiave in mano in cui loro possono contattare in maniera massiva i loro clienti con possibilità di raggiungerli molto più elevate rispetto al contatto fisico, il sistema è end to end totalmente digitalizzato fino ad arrivare anche all'acquisto online della polizza. Che cosa osserviamo? Osserviamo che il processo è totalmente digitale, l'acquisto è ancora molto fisico e quindi si realizza un modello ibrido, ci sono degli ambiti in cui ancora i clienti vanno fisicamente a comprare in agenzia o nell'ufficio del broker. Il secondo tema è il rapporto che le reti hanno con i loro clienti, i sender del marketing digitale, quindi della mail o dell'SMS che arriva al cliente, non è la compagnia ma è l'intermediario che ha il rapporto di fiducia col proprio cliente. Questo fa la differenza, quindi è necessario mettere in risalto e valorizzare questo rapporto consulenziale. Arriviamo a dei tassi di conversione intorno al 6% che vi assicuro per chi lavora nel market digitale in ambito assicurativo finanziario sono tassi veramente molto elevati. Dottor Annesina ha fatto benissimo a dire io porto subito dei casi concreti perché certo questa è una tavola rotonda dove vogliamo mettere sul piatto elementi di riflessione a livello anche teorico però poi bisogna scendere nel concreto, cioè come si rivela la praticità dell'utilità del digitale. E quindi io a proposito di casi pratici, di case study, torno proprio dal dottor Lory perché ci focalizzeremo in questo momento su un case study proprio realizzato da Cheope e realizzato dedicato al progetto delle polizze dormienti. Tra l'altro ricordo che a fine 2017 anche l'IVAS, cioè l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha indagato il fenomeno delle polizze dormienti rilevando proprio all'interno dei portafogli vita delle compagnie che vi erano una serie di posizioni dormienti o considerate comunque a rischio di ormienza. Ecco, voi che cosa avete fatto, quale soluzione pratica avete messo in atto per venire incontro a questa problematica? Certo, allora noi siamo arrivati alla tematica delle polizze dormienti partendo da quella che è una tradizionale attenzione ad esigenze specifiche di determinati mercati. Noi storicamente ci dedichiamo alle tematiche del credito, della reputazione, dell'esposizione al riciclaggio e della gestione del portafoglio. Ma a inizio 2018 anche in qualità di partner selezionato da AnyaSafe abbiamo esaminato la tematica delle polizze dormienti che fondamentalmente dal nostro punto di vista abbiamo ricondotto a una mancanza di contatti sulla base di recapiti attuali e con gli assicurati ma anche sulla mancata conoscenza di chi potessero essere i beneficiari. In sostanza abbiamo esaminato insieme a referenti anche del mondo assicurativo i processi di accertamento finalizzato alla liquidazione e il successivo processo di liquidazione per individuare quali fossero le informazioni chiave che avrebbero permesso e che hanno permesso poi ai nostri clienti di operare per la liquidazione insomma di quanto doveva essere di quanto dovuto in sostanza. Abbiamo individuato la fonte di queste informazioni chiave presso quelle che sono le anagrafi comunali del territorio nazionale. Si parla di uffici che risiedono in ognuno degli oltre 7.900 comuni e ecco la sfida maggiore e ce ne siamo subito resi conto sta nel fatto che questi uffici anche oggi tra di loro e nel contatto nel rispondere a terzi come può essere una società come Cheope o qualsiasi altro interessato hanno modalità molto diverse e per le tempistiche di risposta ma anche per il contenuto e la difformità delle informazioni che questi hanno registrato. Pertanto il nostro impegno come Cheope è stato di creare un network di corrispondenze con ciascuna anagrafe del territorio comunale ancora prima che con l'anagrafe nazionale della popolazione residente col fine di garantire ai nostri clienti la possibilità di reperire tutte quelle informazioni ufficiali e certificate ma in una forma digitalizzata e collocabile all'interno dei processi informatizzati svolti dalla compagnia per cui in sostanza integrare quei dati certificati all'interno del gestionale dei nostri clienti a volte anche in collaborazione con società che si occupano di di outsourcing di servizi informatici o di altri di altri processi per cui in questo in sostanza ha risieduto il successo della proposta che oggi è utilizzata da da diversi clienti e l'aver reso digitalizzato un dato che era molto frammentato variegato sul territorio ma pur sempre ufficiale è stata secondo noi la chiave di questa attività tant'è che presto queste possibilità sono state applicate anche a tematiche quali l'antifrode in fase assuntiva pagamenti effettuati in una maniera ricorrente dalle assicurazioni quali le rendite piuttosto che in generale alle attività di gestione del portafoglio ecco questa è stata l'esperienza che abbiamo con l'ambito assicurativo che sta proseguendo anche considerate le indagini sempre in corso da parte di IVAS e l'attività di monitoraggio in sostanza stiamo proseguendo nel miglioramento e nel perfezionamento di questa soluzione a beneficio delle assicurazioni dirette ma anche dei loro partner del mondo bancario e finanziario. Ecco mettere a punto delle soluzioni che vadano a beneficio innanzitutto del cliente oltre che naturalmente dei player assicurativi il cliente al centro, le esigenze del cliente al centro, questa è un po' ecco un altro fil rouge che possiamo individuare all'interno di questa tavola rotonda ma ecco le esigenze dei clienti per quanto riguarda il settore digital health e qui ripropongo ecco l'intervento del dottor Meciani sono particolari perché? Perché ci sono dei trend che ormai dobbiamo evidenziare, sottolineare sicuramente l'invecchiamento della popolazione, un trend che riguarda i paesi sviluppati un po' in tutto il mondo e poi naturalmente anche a causa dell'invecchiamento della popolazione la moltiplicazione anche delle patologie. Ecco rispetto a questi mega trend che sono in atto qual è la risposta del settore assicurativo? Innanzitutto volevo chiedere un po' a tutti voi, parliamo di cliente al centro, chi si occupa della vostra salute? Secondo voi chi è che si occupa della vostra salute? Bravo, signore, noi non abbiamo nessun altro, non è medico di medicina generale che ha pochi minuti e fa prescrizioni, un check up da 1000 euro dura il tempo che dura, poi purtroppo non siamo molto seguiti. Quindi quello che adesso la tecnologia abilita sono nuovi modelli dove non è solo la classe medica al centro a definire cosa dobbiamo fare, ma in una certa misura anche noi possiamo fare delle scelte. Nella versione più basica, contare quanti passi abbiamo fatto alle 6 del pomeriggio, ci va a fare una scelta che è farne qualcuno in più, scendere dalla linea del metro una fermata prima di arrivare a casa. Quindi piuttosto che vedere la glicemia o altri aspetti. Quindi noi possiamo fare alcune scelte, questo è un modello totalmente nuovo, ovviamente non in maniera selvaggia ma coordinati poi con strutture deputate a seguirci. Questo sta avvenendo sulle piattaforme, ad esempio, dove hanno già appunto investito anni fa, ma ci sono milioni di persone seguite in America, diabetiche con l'intelligenza artificiale, che gli dice esce alle 5 del pomeriggio perché è mangiato in un certo modo, hai fatto tanti passi e questa è la glicemia, tu hai il cane e porta fuori il cane. So che di solito fai 800 passi, circa ne fai nel 1.200. E ci sono milioni di persone, tu l'ha provati dall'FDA, quindi non stiamo parlando di cose, erano nuove anni fa, per cui c'è la possibilità di essere noi al centro concretamente come scelte. Poi dicevi gli anziani, noi siamo un paese molto anziano, uno dei più anziani europei, dove però la qualità della vita che viene misurata come assenza di patologie e di infortuni, è un indicatore un po' diciamo ibrido, non è poi così buona. Quindi siamo vecchi, ma non così tanti in salute. Quindi sicuramente è un ambito dove si può intervenire. Le aziende, le compagnie hanno capito che c'è ovviamente, tutti lo sanno, questo silver come mercato è immenso, lo Stato spende 80 miliardi all'anno e si stanno muovendo in questa direzione. La velocità è quella tipica del nostro settore, non è veloce ma non è anche così lenta, quindi si capisce che c'è un'opportunità molto importante. Ecco, passando invece ancora al settore dell'auto, quindi a Carglass, che cosa vuol dire per voi mettere al centro il cliente? Possiamo dire che l'omnicanalità è uno strumento per venire incontro a queste esigenze? Lo è assolutamente, perché come dicevo prima, oggi sempre di più il consumatore finale, quindi nel nostro caso l'automobilista, è interessato alla rapidità e alla semplicità. La multicanalità va in questa direzione perché di fatto permette al cliente di accedere ai nostri servizi tramite i canali che sente più vicini e più preoccupati a lui. Una persona da noi può tranquillamente iniziare un percorso di prenotazione su un sito internet e termina al telefono, piuttosto che iniziarlo al telefono e proseguirlo decisamente sul canale digitale o direttamente in filiale. Prima ho parlato di clienti e di partner, in realtà ci sono un terzo protagonista nelle relazioni di business che noi abbiamo, che è l'intermediario fondamentalmente. Nei dati del dottor Renga di prima si vedeva chiaramente come oggi l'agente assicurativo ha ancora un ruolo molto importante nel panorama italiano. Per noi il digitale va anche in questa direzione nel fornire all'intermediario finanziario una serie di strumenti che aiutino l'intermediario nella relazione con il suo cliente e il digitale ci sta fornendo delle chiavi di interazione con l'intermediario per metterlo in relazione direttamente con il proprio cliente in modo estremamente veloce. Anche qui la multicanalità perché di fatto lo stesso intermediario finanziario può attivare i nostri servizi tramite le piattaforme digitali e eventualmente se il cliente lo preferisce può terminarli tramite le piattaforme telefoniche e quindi c'è un discorso di costante passaggio tra una piattaforma e l'altra sempre all'ottica di mettere al centro appunto il cliente e farlo scegliere nella modalità che sente più affine a lui. Ecco lei ha citato due parole chiave che sono rapidità e semplificazione possiamo individuarle ecco come alcuni dei bisogni essenziali dei consumatori dei clienti ce ne sono altri anche perché la profilazione dei clienti è sempre più specifica dal momento che appunto la tecnologia digitale ci fornisce una mole di dati impressionante estremamente superiore rispetto al passato il che ci permette anche di intercettare in maniera ancora più precisa quali sono appunto le esigenze dei clienti quindi oltre alla rapidità alla semplificazione che cos'altro possiamo aggiungere dottor Anesin? Beh allora direi che i dati dei clienti sono assolutamente ormai centrali in tutti i modelli di business che stiamo vedendo le compagnie hanno moltissimi dati stanno sviluppando nuove capacità anche di utilizzarli perché se ci guardiamo indietro nel recente passato non sempre le compagnie assicurative hanno dimostrato grandissima capacità di utilizzare questi dati ma stanno velocemente migliorando e cercando di utilizzarli anche noi al nostro al nostro interno utilizziamo soprattutto i dati in nostro possesso andandoli poi ad arricchire eventualmente anche con banche dati esterne ormai ci sono tutta una serie di informazioni molto interessanti e molto utili per la profilazione dei clienti e per andare poi a disegnare quello che può essere un percorso di contatto noi abbiamo diversificato un po' le modalità di contatto con i clienti nei vari touch point che possiamo avere con il nostro cliente nel corso della vita andando anche in questo caso dove i clienti siano intermediati e per noi lo sono nella maggior parte dei casi a coinvolgere comunque anche le reti. In ogni caso i clienti possono accedere a noi in un servizio con modalità effettivamente multicanale perché ormai ci sono una serie di servizi self service assolutamente fondamentali per poter interagire. Il cliente vuole velocità, rapidità vuole poter interagire in tempo reale H24 e quindi voice bot, chat bot, possibilità di accedere a servizi online dai siti diventano assolutamente fondamentali. Quello che vediamo comunque è sempre la necessità in ogni caso su tematiche dove la parte consulenziale è necessaria in ogni caso di avere un secondo livello con un contatto con un consulente. Quindi la tecnologia ancora una volta fattore abilitante dal nostro punto di vista assolutamente indispensabile ma non sostituisce completamente l'essere umano perché faccio l'esempio purtroppo tragico della recente pandemia. Quando è scoppiata la pandemia noi abbiamo immediatamente attivato un servizio di consulenza telefonica per tematiche legali soprattutto nel mondo delle piccole e medie imprese legate a problemi appunto cosa faccio con i lavoratori dipendenti che devono stare a casa, che problemi posso avere eccetera eccetera e devo dire che è stata estremamente apprezzata e utilizzata. Forse è anche in un momento di crisi la fiducia diciamo si aggancia ancora ad un canale tradizionale, le persone vogliono essere rassicurate ecco e forse in questo anche il fattore umano può rappresentare un plus, non scomparire completamente ma appunto abbiamo detto ecco questa integrazione di sistemi e metodi differenti. Ecco noi stiamo parlando del presente cioè della rivoluzione ed evoluzione che sta caratterizzando il settore assicurativo adesso ma dovremmo proiettarci anche al futuro perché lo abbiamo detto l'impatto del digitale, dell'intelligenza artificiale sarà sempre più effettivo ecco da qui in avanti. Quindi ecco chiedo ai miei speaker per questa ultima parte della tavola rotonda di proiettarci ecco in uno scenario futuro in quello che verrà e in questo scenario futuro sicuramente la parola chiave è apertura, apertura a nuovi player oltre a quelli tradizionali, apertura a un vero e proprio ecosistema. Ecco quali sono i vantaggi di appartenere a questo ecosistema ma anche quali sono le resistenze che caratterizzano ancora i vostri settori ed eventualmente le soluzioni per superarle. Ripartirei dal dottor Lory. Sì riparto anch'io da una considerazione cioè la tematica delle polizie dormienti per come è stata gestita da diverse compagnie è passata dall'essere qualcosa, una tematica puramente normativa all'aver creato delle nuove buone prassi di gestione del rapporto con il cliente anche in un'ottica di business. Per cui ecco la nostra esperienza in questi oltre 35 anni di attività non mia ma dell'azienda Cheope ci ha mostrato che la crescita e la digitalizzazione delle informazioni è qualcosa che probabilmente in una misura inevitabile continuerà a far emergere una serie di disallineamenti. Pertanto ecco la nostra prospettiva ci porta a vedere il digitale, le informazioni digitalizzate come qualcosa che devono coesistere in parallelo a una sorta di consapevolezza così come nei processi commerciali c'è sì il digitale ma c'è anche la gente che è in grado di fornire assistenza. Mi spiego meglio con degli esempi. Oggi c'è l'anagrafe nazionale della popolazione residente ma se una compagnia si riferisse a quella per verificare l'esistenza in vita dei propri assicurati insomma probabilmente non andrebbe a rilevare alcune casistiche perché l'anagrafe nazionale è sì perfettamente allineata ma spesso i comuni che si scambiano le informazioni le quali poi confluiscono nell'anagrafe hanno ancora delle tempistiche piuttosto ampie di corrispondenza tra di loro per cui in quei casi sono necessarie delle verifiche più approfondite e riferite alla situazione reale. Così come per quanto riguarda la compliance e l'antiriciclaggio se oggi andiamo a consultare i registri di titolarità effettiva costituiti presso diverse camere di commercio all'estero ebbene abbiamo l'ufficialità della dichiarazione ma non abbiamo nessuna responsabilità che si prendono queste camere di commercio per cui ci sono dati sì digitalizzati sì ufficiali ma che poi richiedono degli ulteriori approfondimenti al fine di essere ricondotti in una maniera efficace all'interno di un processo può essere un processo di liquidazione piuttosto che di onboarding. Per cui l'impegno di Cheope sarà di continuare a sviluppare dei modelli avanzati per analizzare delle basi dati complesse ma in parallelo continuare a maturare e a perfezionare quelle capacità di human intelligence che vengono chiamate in causa nel momento in cui si rilevano delle casistiche di rischio particolare. In sostanza queste attività che noi andiamo a sviluppare per il mercato assicurativo sono sì certamente nate da una tematica di compliance ma sono finalizzate alla gestione a tutti gli effetti del business e alla crescita dello stesso per cui il nostro impegno è nel cercare di rendere sempre più consapevoli i nostri clienti di qualsiasi settore a partire da quello assicurativo e bancario di quali sono i vantaggi per il business nonché anche per la compliance che possono derivare da attività di data remediation evolute come quelle sviluppate da Cheope. Grazie dottor Lory, domanda appunto simile anche al dottor Meciani, cioè come vede il futuro della digital health e qui veramente bisogna anche introdurre qualche dato perché io ho letto una cifra impressionante perché si stima che il comparto arriverà a valere 1,5 trilioni di dollari nel 2030, quindi insomma un'evoluzione davvero impressionante con tanti nuovi player che si affacciano in questo mercato, si parla di start-up, si parla però anche di colossi tecnologici come Google, quindi anche concorrenti in arrivo per le assicurazioni, quindi ecco in questo nuovo mercato che si profila quali sono le strategie da adottare? Quelle che sono le tendenze già in alto sono di lavorare sulla prevenzione, quindi con le nuove tecnologie anche avremo un maggior accesso a informazioni che ci aiutano a vivere meglio, quindi stare più in salute, appunto metà delle morti di un paese come l'Italia sono legate al nostro stile di vita, quindi noi possiamo ritardare queste morti, poi abbiamo l'aspetto delle cure primarie, gli ospedali virtuali, qui le compagnie ma non solo lavorano e poi l'aspetto degli anziani dove si può fare assistenza anche con nuove tecnologie. Quello che è molto interessante è che adesso portando il digitale in maniera più diffusa di prima ho più accesso a questi servizi, chiaramente a quel punto il digital divide diventa un elemento dirompente, guardiamo i dati Istat, vediamo chi sta meglio, ha meno malattie, è più scolarizzato, ha disponibilità economiche maggiori, però chi non ha accesso alle tecnologie resterà sempre più fuori da questo nuovo mondo di servizi, per cui è un elemento di riflessione, il PNR sta facendo qualcosa, sicuramente è molto importante in questa direzione, ma va considerato. Certo, ecco scolarizzazione senza dubbio è un elemento che dobbiamo considerare, abbiamo visto prima anche attraverso la ricerca del Politecnico altri fattori, l'età e magari anche le differenze di genere tra uomini e donne, mi rivolgo al dottor Cortese, so che voi avete fatto un'analisi anche della vostra clientela proprio sulla base di vari elementi tra cui anche la collocazione geografica e sono emersi dei dati differenti, forse questo è un punto su cui riflettere per il futuro. Sì, sicuramente, quando citavo prima la crescita importante del peso del canale digitale nelle prenotazioni è un peso che si è incrementato maggiormente nel nord Italia e soprattutto su clientela di fascia giovanile e femminile, in prima battuta. Quindi c'è una propensione all'utilizzo di questi strumenti forse più spostata verso una certa fascia di popolazione, viceversa, avendo comunque una sorta di osservatore interno anche nazionale, il sud Italia sotto questo profilo di propensione al digitale lo è un po' meno, non si siamo resi conto che lì c'è ancora più una tendenza a utilizzare i vecchi canali di entrata in accesso. Io però, se mi permette, rifacevo volentieri riferimento alla considerazione delle prospettive per il futuro e alla possibile concorrenza, al possibile arrivo di altri player sul mercato. Io sotto questo punto di vista sono, almeno nel comparto automotive, un po' più sereno nel senso che credo che sia sempre più difficile entrare a competere nel mercato, almeno nel nostro settore dove di fatto stiamo passando da fondamentalmente un'officina a un laboratorio in qualche modo, perché la tecnologia sta entrando sempre più pesantemente nelle macchine. Se penso al vetro non si tratta più di staccare e incollare un pezzo di vetro sulla macchina, ma si deve intervenire anche su tutti quegli accessori, che non sono più accessori piacevoli, non sono accessori obbligatori e importanti, abilitanti come gli strumenti per la frenata assistita, per esempio i cosiddetti ADA, sistemi di sviluppo della guida, che portano fondamentalmente alla necessità di avere una tecnologia importante nei centri per rendere questi strumenti, le telecamere che sono appoggiate alla parabrezza, che regalano la frenata automatica, nuovamente funzionanti dopo che viene fatto un intervento di manutenzione. Quindi si sta incrementando la complessità fondamentalmente e sulla parte della complessità gioco anche quello che penso che possa essere una prospettiva interessante per il futuro nel rapporto con gli intermediari e con le compagnie assicurative con cui noi operiamo, perché di fatto la compagnia assicurativa e l'intermediario cercano clienti soddisfatti e cercano opportunità di comunicazione con i clienti soddisfatti. Noi siamo fondamentalmente una realtà che genera soddisfazione del cliente perché siamo fondamentalmente molto rapidi, operare su un cristallo mediamente impiega al massimo due ore, quindi ho un problema, vado in un centro, lo risolvo estremamente in modo rapido ed efficace. Questo tipo di soddisfazione del cliente ricomunicata a chi ci ha mandato il cliente, quindi l'intermediario, l'agente piuttosto che la compagnia assicurativa, può essere fondamentalmente uno strumento, un'opportunità per la compagnia assicurativa stessa. Il digitale diventa un abilitante. Io informo chi mi ha mandato il cliente nella filiale dell'avvenuta riparazione, dell'avvenuta soluzione del problema del cliente assicurato e l'assicurazione piuttosto che l'intermediario può far leva sul fatto che il cliente che mi ha mandato è oggi soddisfatto e quindi magari più propenso ad ascoltare un consiglio piuttosto che ascoltare un'indicazione che appunto il partner assicurativo o l'agente assicurativo può dare al suo cliente finale. Molto interessante, anzi io mi riaggancio proprio a un termine che lei ha utilizzato. Aumentano le possibilità ma aumenta anche la complessità. Questa è un po' la difficoltà forse nell'entrare a far parte di un ecosistema. E qui do il compito al dottor Annesin di mettere un po' il punto esclamativo su questa tavola rotonda. Diciamo che questa è la tendenza, cioè appunto un ecosistema sempre più ampio dove giocano player differenti rispetto a quelli tradizionali. Ecco, abbiamo visto i vantaggi, abbiamo visto quali sono le strategie da adottare nel futuro e a questo punto che cosa ci aspetta se ci sono poi eventualmente ancora dei limiti e delle resistenze da superare per aprirsi completamente al nuovo. Beh, allora che responsabilità. Allora, diciamo che il tema degli ecosistemi è un po' l'orizzonte. Chiaramente in alcuni ambiti è molto più chiaro, evidente. Paolo ne parlava in ambito salute. Insomma, penso che il tema degli ecosistemi in ambito sanitario sia ormai all'avanguardia e sia già molto avanti sotto alcuni aspetti. Dal nostro punto di vista anche negli altri settori sarà necessario spingere ulteriormente. Noi vediamo gli ecosistemi anche per quanto ci riguarda. Noi da anni lavoriamo alla creazione di un ecosistema che segue la nostra mission, che è quella di garantire l'accesso alla giustizia a tutti e quindi l'ecosistema è quello della tutela dei propri diritti. Come? Con un insieme di prodotti assicurativi che siano completamente digitali, che siano molto più moderni e evoluti, che seguano le tendenze di quelle che sono i comportamenti dei clienti. Vi faccio un esempio molto pratico. In ambito circolazione, le nostre coperture di tutela legale sono passate dall'essere coperture legate al veicolo, come una volta era normale, a coperture che seguono invece la persona con un concetto di mobilità in senso molto più ampio e quindi io copro la persona qualsiasi sia il mezzo che io utilizzo, sia che sia mio, sia che sia car sharing, sia che sia un monopatino elettrico o qualsiasi mezzo e magari non copro solo l'individuo ma copro tutto il nucleo familiare assieme. A questo aggiungiamo dei servizi che sono ormai sempre più importanti. Perché se io ho una problematica con la mia compagnia telefonica, magari ho la necessità di scaricarmi velocemente dei template per interagire con la mia compagnia telefonica, piuttosto che, come dicevo prima, ho bisogno di una consulenza personalizzata e quindi alzo il telefono o lo faccio digitalmente con la chatbot oppure alzo il telefono e parlo con un consulente. Quindi tutto questo è ovviamente abilitato dalla tecnologia. Torno sul concetto della tecnologia anche negli ecosistemi come fattore abilitante importantissimo. Vi cito poi l'utilizzo anche di, Valentina parlava di nuovi player, di tecnologia esterna perché penso che ormai sempre di più le compagnie assicurative accedano a partnership o possano accedere a partnership con soggetti esterni che abbiano più velocità, essendo magari nativi in insurtech o comunque start-up tecnologiche, di accedere a questa tecnologia. Anche in questo caso un paio di esempi molto concreti. Nel nostro ecosistema per la tutela di diritti in ambito viaggi, uno dei servizi che offriamo totalmente self-service online è quello di verificare semplicemente inserendo il numero del volo la possibilità di avere un rimborso, un risarcimento in caso di volo cancellato o volo ritardato in maniera molto molto semplice. Chiaramente poi c'è anche la parte assicurativa e quindi nel caso in cui il cliente abbia la polizza ARAG ci occupiamo noi di tutto, di fargli ottenere rimborso con la compagnia aerea. Un altro esempio nell'ecosistema invece in ambito motor a cui facevo riferimento anche prima è un servizio che abbiamo sviluppato con una start-up tecnologica esterna che si chiama T-Assisto24, un servizio check-multe e quindi semplicemente sottoponendo la scansione del verbale apro e chiudo una parentesi perché qui interviene anche intelligenza artificiale perché in Italia magari vi stupirete ma esistono più di 40 modelli di verbali diversi con complessità poi anche per andare a recuperare le informazioni e quindi il sistema fa un check formale e dà uno score, un primo score delle possibilità di ricorso contro quel verbale se si ritiene di averlo preso ingiustamente. Anche in questo caso poi la componente assicurativa si attiva per fare il ricorso e far ottenere eventualmente l'annullamento della contravenzione. L'ultimo elemento che emerge insomma dalla sua risposta è una curiosità più che altro perché certamente lei ha detto il digitale e la tecnologia è il fattore abilitante però ecco per in realtà ampliare il pacchetto e mettere in atto, creare delle nuove soluzioni ci vuole però anche il contributo proprio umano diciamo ecco quindi c'è una parte anche di creazione di nuove soluzioni che tira in causa proprio poi anche chi queste nuove polizze le mette sul piatto cerca di idearle. Assolutamente sì riteniamo che la componente umana continua a essere fondamentale assolutamente però necessario poi continuare a evolvere e continuare ad adattare le soluzioni gli ecosistemi come dicevo prima prodotti ma anche servizi sempre più servizi oltre alla classica componente assicurativa a quelli che sono poi le esigenze dei clienti quindi torno poi alla fine ai dati all'osservazione dei comportamenti e credo siano poi centrali per quanto riguarda poi anche lo sviluppo di nuove competenze anche per quanto riguarda il nostro settore. Benissimo io vi ringrazio naturalmente per aver contribuito a questa prima tavola rotonda e saluto quindi Alfredo Lori Project Manager Servizi Insurance Cheo per Risk Management un grazie anche a Paolo Meciani Founder di Bime Consulting Roberto Anesine Direttore Intermediario e Business Assicurativo Digitale di Aragh e infine Andrea Cortese Marketing and Customer Experience Director Carglass ok grazie molto a tutti voi grazie grazie grazie